Benvenuti su fisioterapia rubiera.com, portale di medicina e benessere. Vediamo qual è la corretta tecnica per alzarsi dal letto, soprattutto in caso di mal di schiena o comunque nel post intervento dopo una disceftonia, quindi dopo un intervento per erne del disco. Allora la corretta tecnica è questa. Sdraiati i panci in su, mai alzarci in avanti in questo modo, ma bisogna piegare la gamba dal lato opposto in quello in cui si vuole salire, rotolare tutto il corpo insieme, quindi spalle e bacino contemporaneamente, portare tutti e due i piedi fuori dal lettino e da questa posizione con le braccia aiutarci a risalire di lato. Grazie per l'attenzione, se vi è piaciuto mettete un piaccio a condividi, lasciate un commento per qualunque domanda o suggerimento e iscrivetevi al canale per avere l'aggiornamento sui prossimi video. Grazie.